Il report sulla mobilità delle comunità durante l'emergenza da Covid-19 a giornata il 29 marzo parla chiaro. Rispetto al 16 febbraio, i siciliani hanno abbattuto del 95% gli spostamenti verso i luoghi di ritrovo come centri commerciali, cinema, musei e biblioteche, del 93% quelli verso i negozi di alimentari e le farmacie, del 91% quelli verso i parchi, dell'89% quello verso la stazione e i mezzi di trasporto e del 68% quelli verso i luoghi di lavoro. Al contrario, cresce la presenza a casa di circa il 25%, ma se quest'ultimo dato, secondo Google, è meno preciso, resta comunque il fatto che in Sicilia gli abitanti si stanno mostrando più disciplinati che in Lombardia, vero centro dell'epidemia e in Piemonte. In Lombardia, infatti, si è registrato una riduzione dell'81% degli spostamenti verso i negozi alimentari e del 65% verso i luoghi di lavoro, mentre il Piemonte ha ridotto del 59% gli spostamenti verso il lavoro e dell'85% le presenze sui mezzi di trasporto. I report di Google, arrivati grazie ai database incamerati tramite smartphone e tablet, dicono che complessivamente gli italiani hanno ridotto in media almeno del 75% tutti gli spostamenti. Intanto, la regione siciliana cerca di ottenere più informazioni. La protezione civile regionale ha chiesto a tutte le compagnie telefoniche i dati sulle celle agganciate dagli smartphone in circolazione in Sicilia, con l'obiettivo di individuare eventuali rientrati da altre regioni che non si sono registrati sul sito www.siciliacoronavirus.it, oltre che di tracciare gli spostamenti per evitare abusi che al momento non sembrano esserci. Sull'isola i più disciplinati sono soprattutto i capologhi di provincia. A Messina Nord, ad esempio, c'è stato un calo degli spostamenti del 76%, a Palermo del 72.